E mamma single è sbarcata su OnlyFans e dice che guadagna 15.000 euro al mese, cara, 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 guadagnerai 15.000 euro al mese per i primi mesi, perché è così che avviene su OnlyFans, cara, ma dopo i primi due, tre, massimo quattro mesi non ci viene più nessuno su OnlyFans a cercarti, perché OnlyFans ti vende le luci rosse, sì, ma a pagamento. Il web è pieno dei siti porno gratuiti, gratuiti. Lo sai, cara mamma single, che per esempio il grande social Twitter offre tanti video porno gratuiti, gratuiti, cara, 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 che sei tanto bella, cara, ma vedrai che fra qualche mese anche tu dovrai andare a mangiare un piatto di minestra calda alla Caritas. Io, cari amici, la notizia ve la metto nel riassunto del video, così voi la potete leggere nella sua interezza. Capito, capito? Capito? Diciamola tutta la verità. Queste girls che fanno le luci rosse, vedete, ridono pure, ridono. Anche Pinocchio e Lucignolo ridevano quando stavano per andare nel paese dei Balocchi. Beh, queste girls qua, queste girls dovrebbero saperlo che ormai con le luci rosse ci fai la fame, ci fai a tutti tanti cari saluti dai libri più belli di Serafino Massoni.